Venerdì 15 novembre andrà in scena al Teatro del Giglio C'era una volta a Rettuono. Poetico e divertente racconto sull'importanza della voce, centrato sulla figura burbera fiabesca del turbolento Rettuono, che inaugura il progetto didattico Luca Junior Opera, ideato dal Teatro del Giglio in collaborazione con gli istituti musicali pubblici della città di Lucca. L'opera è il frutto del lavoro a cui hanno partecipato circa 60 ragazzi in un percorso di formazione per la messa in scena di una vera e propria opera lirica. Il progetto si è articolato in due realtà. Da un lato i giovanissimi componenti del coro e del corpo di ballo, che sono stati guidati in un percorso di avvicinamento al canto corale e alla danza, dall'altro l'orchestra, che nasce dal coinvolgimento di giovani strumentisti provenienti dalle scuole medie dell'Istituto Comprensivo Lucca 2 e 1, dal Liceo Musicale Passaglia e dall'Istituto Musicale Boccherini. Ad affiancare i giovanissimi interpreti sulla scena un cast di grandi professionisti. L'opera andrà in scena per le scuole venerdì 15 novembre alle ore 10 e 30 e in serale per tutto il pubblico lucchese alle 21. L'intento del progetto è quello di permettere ai ragazzi di prendere parte da protagonisti ad un allestimento lirico, con le sue prove, con il lavoro assieme ai professionisti, con l'utilizzo di tutti gli spazi del teatro, come accade negli allestimenti di opere tradizionali, come importante momento formativo, musicale o umano, per comprendere il valore dell'esperienza artistica di gruppo, la fatica di lavorare insieme e l'entusiasmo di portare in scena di fronte a un pubblico uno spettacolo completo e offrire ai ragazzi le condizioni per potersi esprimere e per conoscere il meraviglioso mondo del teatro lirico di qua e di là dal palco.